Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a una nuova puntata di Airsoft Iron 4 Oggi parliamo del design delle navi, quindi di ogni singola nave e delle flotte che potremo comporre con i nostri design Quindi parleremo prima dei design e poi delle flotte Allora, partiamo dalle carrier Le carrier sono principalmente di tre tipi Abbiamo una carrier più costosa, 9522 production cost Con tre slot di hangar space, anti-air, engine di livello 2 e una batteria di supporto Quindi il deck size è 60 Abbastanza grande ragazzi, queste servono per andare a costruire delle task force con le carrier veramente grosse Abbiamo poi una da 40, quindi soltanto due hangar space Diciamo servono per una task force un pochino più piccola Oppure perché magari la nostra nazione non si può permettere una carrier di questo tipo Quelle da 20 invece ragazzi ne avranno soltanto uno E saranno principalmente delle carrier di supporto Magari utilizzate per avere un pochino di supremazia aerea in più in una determinata zona Magari come Convoy S, qualcosa di questo tipo Quindi si utilizzano, diciamo che nella mia esperienza ho utilizzato molto quelle da 60 e quelle da 20 Quelle da 40 sono buone, ma ovviamente se qualcuno non se lo può permettere Diciamo tipo l'Italia, no? Vuole incentrare una strategia sulle carrier un po' così Ecco, magari quelle da 40 potrebbero essere interessanti Nelle battleship abbiamo sia le super heavy battleship che quelle, diciamo, classiche Allora, la battleship classica, chiamata anche heavy Ha circa un costo di 1.400, ok? Come è strutturata? Quattro batterie pesanti Loro che non mi ricordo mai come L'Aircraft che ci permette, vedete ragazzi Guardate questi valori Surface Detection e Sub Detection Ok, vedete come cambiano se io li tolgo Quindi ci permettono di avvistare prima i nostri avversari Ed è veramente utile Ovviamente le heavy battery per menare, ok? Che ci permettono di avere tutta questa roba Batteria di anti-air, fa sempre comodo Batteria di supporto Ragazzi, non vi confondete con le due armature Battleship Armor e Battlecruiser Armor La Battlecruiser ha meno armatura Più veloce E ovviamente consuma, a livello di production cost, molto meno Vedete, da 14.000 passiamo a 12.000, vedete? La battleship invece è più grossa In questo caso, ragazzi, io vi consiglio Ovviamente, entrambe le operazioni In base a quello che è la vostra nazione, ok? Concettualmente non cambia assolutamente nulla Se non il production cost, l'armor e la velocità Una variante un pochino anti-air Quindi con una batteria anti-air in più È ovviamente anche molto più economica Ci permette di avere Meno danni, ma più controllo aereo Quindi dipende che cosa vogliamo fare Con le nostre battleship Super EV, ragazzi, beh Tocca menà Ok? C'è una variante dove si giocano anche tutte anti-air qui Personalmente a me non piace molto Perché credo che una Super EV battleship Deve fare i buchi veramente grossi E quindi un setup di questo tipo Ti permette di bugare Nel vero senso della parola Dal momento che stiamo spendendo 20.000 di production cost Adora, beh, diamogli un senso a questi 20.000 Battlecruiser, ragazzi Ne abbiamo una Prima del... Scusate, mi sfugio del nome Avete presente che Nelle decisioni di solito E a quella struttolta Se no non potevo fare i design C'è un blocco Si chiama Naval Theater Mi sembra O Treatment Non mi ricordo È praticamente un accordo Che non fa andare oltre una determinata soglia Il costo di produzione di alcune navi Ad esempio Le Battlecruiser O le battleship in generale Non potranno andare oltre 10.000 Questo, ragazzi È un setup Per il pre Ok? Quindi prima Di questa cosa O meglio Provo a spiegarmi leggermente In modo più chiaro Iniziate a fare questo setup Se siete bloccati da questo accordo E non lo volete disdire Per delle vostre scelte di gioco Iniziate a fare questo tipo di setup Per arrivare a 9.530 sette di production cost Ok? Due V-Battery Anti-Air Un Aircraft E le altre situazioni classiche Che abbiamo già visto Lasciatevi gli oscolti libri Tralasciando che anche questo tipo di nave Performa abbastanza bene Nel momento in cui si può rompere O si può uscire O decidiamo di uscire Da questo accordo Ok? Alziamo Quindi aumentiamo di 2 Quindi sostanzialmente Aumenteremo di 2.200 Il production cost Ma comunque Gran parte della nave Sarà già costruita Quindi un conto è costruire da zero Una nave A 11.500 Scusate 12.749 Di production cost Un conto invece è aggiungere Semplicemente 2.000 Di production cost È differente Quindi ripeto Questa Inizialmente Se siamo bloccati Un conto invece è costruita Un conto invece è costruita Poterire secondare A livello 1 Ok? Tutto a livello 1 Nel momento in cui invece potremo uscire da questo Da questo blocco Ok? Alziamo in questo modo Potremo anche fare ragazzi Una cosa di questo tipo Ok? Non è un problema Il costo è 6.000 Va benissimo Un pochino Meno performanti Niviattac Perderemo un bel po' Ok? Vedete rispetto a quello che avevo fatto vedere io Però comunque Farà il suo sporco lavoro Personalmente preferisco questo tipo di nave Costa 7.000 Volendo potremo anche fare O una cosa di questo tipo Ok? Arrivare a 6.500 Di production cost Avere un po' più di anti-air Oppure addirittura Metterci una batteria secondaria Arrivare sempre a 6.590 Di production cost E comunque avere Un buon margine di danno Pesante Non è male Ok? A vostra scelta Questa invece è Quello che vi dicevo Vi ho appena fatto vedere Un pochino più bilanciata Quindi due E ovviamente due artiglierie Ripeto Potremo anche cambiare Con una batteria secondaria E per quanto invece riguarda Le light ship Light ship Scusate Le light cruiser Abbiamo quella classica Ok? Setup di questo tipo Al posto Del Light cruiser battery Potremo tranquillamente utilizzare O una batteria secondaria Ok? Vedete Abbasseremo il costo Di un centinaio Oppure andare a utilizzare Una batteria invece Rapida Per abbassare Ancora di più Il costo Della nostra nave Ok? Questo secondo me È un buon setup Per una light cruiser Fa il suo lavoro Molto molto bene Questa ragazzi Probabilmente È una delle navi più forti Del gioco Voi direte Ah ma come Tutti anti-air Sì Tutti anti-air Perché questa sarà Una delle navi di supporto Che noi saremo di più All'interno delle nostre flotte Cinque batterie di anti-air Vedete? Anti-air 15 A questa ragazzi Buga tutto ciò Che sta per aria È veramente Veramente forte Questo tipo di setup Ecco questa nave Ragazzi Non la sottovalutate mai Mai Dovete sempre avere Una light cruiser Che vi fornisce Anti-air Perché sarà Indispensabile Ora passiamo ai destroyer Allora Ne abbiamo Svariati Abbiamo un destroyer Chiamato Diciamo Versatile Che Comunemente Lo troviamo anche Scritto così Ora Questo ASV Che cosa sarebbe? Sarebbe Sostanzialmente La possibilità di installare Anti-submarine warfare Quindi un oggetto Che fa danno Ai sottomarini Cos'altro si potrebbe fare Per ancora far più danno Ai sottomarini Si potrebbe anche inserire Un altro deep charge Non è male Ma la potenza di questa nave È che come vedete Ha una serie di statistiche Buone per far qualsiasi cosa Ha il torpedo Ha una batteria leggera Ha un anti-air Ha un sonar Un altro torpedo Quindi Questo tipo di nave Va bene Un po' per tutto Diciamo È veramente Il destroyer Più classico Che si possa trovare Nel momento in cui Lo volessimo specializzare Potremmo fare Una cosa di questo tipo Scusate Metterci un torpedo in più Oppure metterci Due ASV in più Ok? Non è Sbagliato come cosa Ma questo tipo di setup È veramente Il più banale E secondo me Anche il più performante Abbiamo poi Un destroyer Anti-air Come avevo detto Per la Light cruiser Ok? Anche il destroyer Può fare Il suo lavoro Da anti-air Quindi qualora ci servissero Di destroyer Anti-air Che sicuramente Li useremo Diciamo che Se mettiamo in un esercito Una cinquantina di destroyer Circa una decina Otto O dieci destroyer Saranno anti-air E Non son male Hanno comunque Anche loro Di torpedo Quindi sicuramente Spaleranno anche A terra Se vogliamo dire così E È solo un setup Interessante Abbiamo poi Un setup di Anti-mining Di primo livello Come vedete Un production costo Di 740 Che serviranno A togliere Le mine Che vedremo poi Piazzate Sottomarini E Questo invece È un setup Un pochino più Aggressivo Cioè Costa ovviamente 400 di production Costi in più Ma Già Dalla sua Delle Delle Evivaggiamenti Messi Precedentemente Quindi questo Potrebbe essere Magari Un Bonded Strader di supporto Da mettere All'interno Delle nostre truppe Se vogliamo Magari mandarli A fare un Demining Da qualche parte E Non rischiare Insomma Di Finirci secchi Da qualche altra nave Diciamo Non è male Passiamo ai Sottomarini Abbiamo il Sottomarino Classico Ok Quindi con Due torpedo Nel mentre Whatsapp Che mi poppa Due torpedo Di livello 2 Ok Che sono molto Molto efficaci Per fare Convoy rating Sono veramente Devastanti E poi abbiamo I sottomarini Da mining Ok Che vedono Soltanto Uno Di Mining Qui Anche perché Qua sotto Ragazzi Sarà lo slot Di torpedo Quindi niente Nel mentre Mi vibra anche il telefono Ovviamente ragazzi E E questo sarà usato Per il convoy rating Ora Queste sono Tutte le navi Che noi Potremmo utilizzare Ovviamente ragazzi Andare a impostare Una navi in modo diverso Non è che è sbagliato Cioè Andare a impostare Una navi cruiser In questo modo Ok Non è Una cosa Sbagliata Secondo me Performa poco Ma ovviamente Dovete sempre Pensare Al vostro Production cost A quello che potete E non potete fare A quello che Soprattutto La nazione Può fare L'Italia Non può Permettersi una Superi V Battleship E una carrier Da 60 Contemporaneamente Cioè Già la Superi V Battleship Per l'Italia È un miracolo Ma già questa Inizia ad essere complesso Magari se siamo Invece la Germania Ci possiamo permettere Qualcosa in più Se siamo l'America E l'America ragazzi Si può permettere Tanta roba Quindi È importante Sapere Cosa ci possiamo Permettere E cosa no Passiamo adesso A vedere invece Le flotte Passiamo adesso A le flotte Che potremo Costruire Nella nostra campagna Allora Scusate Metto Questo di qua Ok Allora Le flotte Che sono qua Sulla sinistra Quindi A sinistra Di questa barra nera Sono delle flotte Che volendo Potremo anche andare A raddoppiare Che vuol dire Che Una flotta di Convoy Rating Formata da 30 sottomarini Va bene Una flotta di Convoy Escort Formata da 20 ASV Va bene Una flotta Ecco ad esempio Di 100 Sottomarini Di 100 Scusate Destroyer 20 No Ok Queste ragazzi No Queste vi consiglio Di mantenermi Di mantenervi Qua intorno Ok Se non sono 50 Potrebbero essere 45 Se non sono 10 Potrebbero essere 8 Ok Non andate a fare 100 Ok Vi consiglio Di mantenervi Su questa linea guida Di qua invece Potete tranquillamente Andare a raddoppiare Allora Partiamo dalla prima Questa è Una di Patrol Ok Patrol Che vuol dire Che andiamo Quindi a vedere Se ci sono Delle flotte Avversarie Nelle nostre Zone Marittime Quattro Destroyer SV Una Light Cruiser E una CA Bilanciata Ok Non c'è bisogno Di andare a spendere Troppo Per la nostra Heavy Cruiser Allora Il mining Invece Viene fatto Principalmente A De Sabarin Perché il punto Interrogativo Perché potremmo Decidere di mettere Poche mine O tante mine Di solito Ragazzi Meno di 10 Sottomarine a zona Fanno il loro Sporco lavoro Quindi Vogliamo minare Boh Tutto il confine Americano Beh Serviranno Un alto numero Di sottomarine Vogliamo minare Soltanto invece La zona del mar Mediterraneo Ovviamente Ne serviranno Nettamente Meno Ok Quindi È un pochino Più Personale Ma Diciamo che Calcolate Top Mettiamo Almeno 6 Sottomarine a zona Per stare Un po' Generosi Passiamo Al convoy rating Quindi Queste Dovranno Andare a Rompere le scatole Ai convoy Nemici Ovviamente I sottomarini Quindi ci sono Il minimo Sindacabile Per un totale Di circa 8 K di Redaction cost Un'altra Buona flotta Sono 25 Sottomarini E 5 ASV Destroyer Qua potremmo Anche andare 30 Sottomarini 6 7 Destroyer Non è un problema Per un totale Comunque di questa roba Di 14k Convoy escort Ora Il convoy escort È Soltanto Lo scortare Un convoglio Da una parte All'altra Quindi Magari a difesa Delle nostre rotte commerciali A difesa Delle truppe Che fanno Avanti indietro Tra il fronte Casa Non lo so Insomma Comunque Scortare il convoglio La più semplice Ragazzi È 10 Destroyer ASV Potrebbero essere 15 20 30 40 Ok Di solito Non andiamo Oltre i 20 Tutto sommato Se andiamo oltre i menti Vuol dire che Abbiamo la necessità Di investire Più risorse Per proteggere Il nostro convoglio Allora magari Queste risorse Potremmo investirle In un convoglio Escort medio Quindi con 6 SV 4 Anti-air E 2 Light cruiser Il costo è Quasi il doppio Perché comunque Le light cruiser Pesano Avremo anche Un po' di Anti-air Perché spesso I convogli Potrebbero venire Anche attaccati Da dei naval bomber Allora Potrebbe essere interessante Avere anche Un pochino di Anti-air In più Ivi invece Alziamo di un pochino Di più La base Del costo Quindi da 22 Passiamo a 28k E avremo 8 destroyer SV 4 destroyer Anti-air 2 light cruiser E una CA balanced Potremmo anche Volendo Alzare un po' di più Le CL O magari mettere Anziché una balanced Una Eevee Ok Quindi alzare Un pochino di più Il costo Ma anche Le performance Della nostra Convoi Escort Ok Quindi qua siamo Un pochino più liberi Potremmo giocare 15 destroyer SV 5 destroyer Anti-air E magari 2 destroyer Scusate 2 CA E 3 O 4 CL Ok va bene Non è Non è un problema Siamo molto più liberi Qua invece ragazzi Vi consiglio Adesso partiamo Dalle carrier Dovremmo essere Un po' più severi Con i numeri Cioè dovremmo stare Attenti ai numeri Perché uscire Troppo fuori Da un meccanismo Potrebbe darci Dei problemi Allora Per quanto riguarda Le carrier pesanti Vi consiglio In totale 40 destroyer Di cui 30 sv E 10 anti-air Perché Questa è una carrier pesante Quindi Si suppone che Debba Veramente Vincere l'area Cioè si basa Sulle carrier Allora 10 Destroyer anti-air Non stanno male Potrebbero però Anche essere troppi Allora potremmo fare Un'operazione Di questo tipo Ok I 355 Erano un po' troppi Ovviamente dipende Che cosa dobbiamo fare E dove Dobbiamo difendere I nostri confini O dobbiamo attaccare Magari ecco Siamo il Giappone E dobbiamo conquistare Le isole Americane Quindi diciamo Le zone tra Apple Harbor E quella roba lì Insomma È differente No Allora magari Prevediamo tanto Numero aereo Allora Fare un'operazione Di questo tipo È sicuramente più logico 6 light cruiser Anti-air 8 light cruiser Normali 8 EV cruiser Bilanciate 2 battleship Pesanti E 4 carrier Da 60 Cosa sono questi numeri Volendo Potremmo sostituire 2 battleship pesanti Con una super heavy battleship Ovviamente il costo È differente La performance A mio giudizio La super heavy battleship È davvero grande Se abbiamo tanto Supporto aereo Difficilmente Ce la tireranno giù Quindi potrebbe essere Interessante Metterci una super heavy battleship Però anche 2 battleship pesanti Sono molto standard Vanno molto bene Ovviamente Ripeto ragazzi Il numero tra parentesi È il numero Che andiamo a togliere Qualora mettessimo La super heavy battleship Ok Chiaro Quindi questo Meno 1 0 Non so perché ho messo meno Ma comunque insomma Avete capito Una media invece È leggermente Meno performante Quindi vediamo Meno destroyer Una decina in meno Precisamente 15 Quindi 25 contro i 40 Di prima 4 light cruiser Anti-air 4 light cruiser Normali 5 già bilanciate E 2 CV da 60 Ok Leggermente Meno performante La light Quindi proprio leggera Questa potrebbe anche Essere utilizzata Come supporto Magari Come supporto Per un'invasione Navale Tranquilla Cioè ovviamente No magari Lo sbarco In Normandia Che devono fare Gli americani In Germania È una cosa Abbastanza blanda Potrebbe essere utilizzata Per escortare Magari I nostri convogli In delle zone Dove sappiamo Che c'è Qualche pericolo Allora ci mettiamo O una O due CV da 20 Quindi potremmo anche Metterci una CV da 40 Insomma è uguale 2 CA bilanciate CL2 CLA4 E poi 10 destroyer sv E 5 destroyer anti-air Volendo Potremmo anche Qui Torno un piassetto Indietro Anziché mettere 2 da 60 Potremmo anche Metterne 4 da 40 Ok Ovviamente Saranno differenti I costi Saranno differenti Le performance Delle navi Ma comunque va bene Cioè l'importante È raggiungere Quei 150 120 Insomma Di Spazio aereo Qua Ovviamente Ragazzi vi consiglio Le 60 Perché siamo Insomma Abbastanza Cioè Dobbiamo menare Con le nostre carrier Alcuni ne giocano Anche 6 Su questa Plotta qui Ok Che sono Contante Quindi Dipende ovviamente Di cosa stiamo parlando C'è da dire che Il costo di production cost 235.000 Quindi Dipende chi siamo Ecco Se siamo per esempio L'Inghilterra Allora potremmo tranquillamente Permetterci una flotta Di questo tipo Cioè Tanto Comunque partiamo già Con tante carrier Siamo l'Italia ragazzi Cioè Ma per favore Siamo gli Stati Uniti Boh De questa ne facciamo Accarrettate Siamo la Germania Beh Ok ragazzi È un discorso diverso Passiamo ora alle battleship Allora Una task force David battleship Vuol dire Una task force Che vince Contro qualsiasi flotta Quindi 50 destroyer sv E 10 destroyer AA 10 destroyer Anti-air Scusate 10 light cruiser Anti-air 15 light cruiser Normali 10 light cruiser Bilanciate Ehm Poi vediamo 6 battleship Pesanti 2 battleship Anti-air Ve lo consiglio Di metterla E basta Volendo Ragazzi Potremo anche mettere Delle carrier Carrier da 40 O magari una da 60 Ok Anche una setup di questo tipo Non è per niente male Ovviamente potremo mettere Le 2 heavy battleship E lasciamo 3 battleship Pesanti Ora Per quanto riguarda Le Ehm Si ha Quindi le Heavy cruiser Vedete che io Le pesanti Non le ho mai messe A parte in una volta Perché Perché volendo Portare queste qui Qua sotto Ok Non è sbagliato Cioè La heavy cruiser Deve menare Io ve la metto Bilanciata Perché Tendenzialmente Una heavy cruiser Se aggira intorno Ai 7000 Poi vedrete voi Ragazzi Ve l'ho fatti vedere I template E come potete modificarla Quindi Io vi consiglio Di Ecco Sulla heavy cruiser Essere Un pochino liberi Cioè Spaziate tra i 6000 E i 7000 Di production cost Io metto Bilanciata Così almeno Ok Sapete anche voi Un pochino Come muovervi Ora Passiamo a quella media 24 destroyer sv 6 destroyer anti-air 8 CLAA 6 CL normali 6 CA bilanciate 2 Battle cruiser Pesanti Quindi ok Prima volta che vediamo Le battle cruiser Protagoniste E 4 battle cruiser Scusate Battleship Pesanti Invece E volendo Potremo anche qui O inserire Una di queste Se abbiamo L'opportunità O magari anche Inserirne un paio Di queste Insomma Non è un problema E potremo sostituire Una super heavy Battleship Con 2 Battleship Pesanti Perché le battle cruiser Sono un pochino Più cheap Comunque forniscono Buon potenziale Di danno Ma Stancano un po' Meno Diciamo che Vanno abbastanza bene Se dobbiamo Men up e menare Ragazzi Mettiamo le battleship Ovviamente Se invece Cerchiamo magari Anche un approccio Un pochino più tranquillo Allora le battle cruiser Fanno al caso nostro Quella light Ragazzi Ve la consiglio Ma ovviamente Non potete pensare Non potete pensare Di vincere Grandi combattimenti Magari potrebbe essere Interessante Fare più task force Di battleship Leggere Mettiamole così Per poter dar fastidio Magari In più zone Ma è difficile Che noi riuscivamo A vincere Veramente la guerra Con questo tipo Di task force Comunque Il setup Sono 15 SV 15 destroyer 6 light cruiser Anti-hater 4 light cruiser Normali 2 Heavy cruiser Pesanti 2 battle cruiser Pesanti E 2 battleship Pesanti Anche qua Volendo potremo O aggiungere Una di queste Scusate Ho sbagliato Una di queste O una da 40 Personalmente Vi consiglio Una da 40 Quindi volendo Anche due Da 20 Anche se Il production cost Sarebbe molto più alto Perché saremo 10.000 contro Circa 7.000 Quindi vi consiglio Quella da 40 Ok Quindi CV 40 E Per quanto riguarda La Super EV battleship Non ve la consiglio Perché Peserebbe un po' troppo Allora magari potrebbe Essere meglio Una battle cruiser E le battleship Anziché una Super EV battleship Perché magari stona un po' Sopunto la potremmo mettere In un setup di questo tipo Ok ragazzi Queste sono Le flotte Alcune delle flotte Poi ovviamente I numeri ragazzi Li potete Tranquillamente stravolgere Non saranno performanti Se voi vi fate Al volo dei calcoli Vedrete che quasi tutte Rispettano un 33% Ok Di Destroyer Un 33% Scusate Un 33% Di questa roba Un 33% Di questo E un 33% Di quest'altro Quasi tutto Ok magari ci saranno Percentuali in più Percentuali in meno Ma circa Stiamo così Vi consiglio Questo tipo di setup Ora Il video Si è concluso qui Quindi queste due puntate Ovviamente Vi consiglio di vederle insieme Perché sono importanti Per capire Come si può stricciare una flotta Vi ricordo che in descrizione Trovate tutti i link Ai miei video E se il video vi è piaciuto Ragazzi Iscrivetevi al canale E commentate Per qualche tuba Per curiosità O semplice curiosità E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti